È stata la Commissione Ambiente del Senato il primo organismo a recepire la richiesta di audizione formulata dall'Anci Sicilia per affrontare la delicata questione dell'aumento dell'Atari. La data dell'audizione è quella del 3 novembre. Ad annunciarlo oggi al nostro telegiornale il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, componente del comitato direttivo dell'Anci Sicilia. Prosegue dunque la battaglia dell'Associazione dei Comuni Siciliani, che come è noto si è rivolta a Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Assemblea Regionale Siciliana per portare avanti le istanze dei Comuni Siciliani in grosse difficoltà poiché costretti per l'emergenza di fiuti dei mesi scorsi ad affrontare costi in più rispetto a quelli originariamente previsti. Noi abbiamo iniziato un percorso che io voglio condividere, ho voluto condividere con Anci Sicilia perché non è solo il Comune di Sciacca in queste condizioni, ci sono tanti altri Comuni, soprattutto dell'Agrigentino perché siamo stati noi quelli maggiormente penalizzati a dover andare nella Sicilia orientale e ho iniziato questo percorso che sta avendo i suoi effetti perché dopo le richieste di audizioni che sono state effettuate da Anci Sicilia presso le Commissioni Ambiente di Camera, Senato e Arseggia sono intervenuti dei contatti con la Commissione Ambiente presieduta da un nostro concittadino del Senato e mi hanno chiamato ieri proprio da Anci Sicilia dicendomi che dovrebbe essere stata individuata la data del 3 novembre come momento di audizione dei Comuni Siciliani rispetto all'incremento di costo. È chiaro che bisogna continuare, occorrerà un intervento normativo perché si tratta di oneri sociali che non possono ricadere sui cittadini e noi dobbiamo andare avanti verso questa direzione perché crediamo sia la direzione giusta, cioè la direzione equa rispetto a un provvedimento che non ci appartiene ma che la Regione Siciliana ha ritenuto di dover emanare in un momento assolutamente posticipato rispetto alle possibilità che i Comuni avevano di intervenire. Ad incidere pesantemente sono i costi legati al conferimento dei rifiuti in discariche lontane centinaia e centinaia di chilometri dal proprio territorio. A Sciacca è stato stimato un aumento dell'Atari di circa 830 mila euro. I miei concittadini devono sapere che questo incremento di costo non è stato determinato dalla volontà del Comune ma da un'intesa che si è definita tra Ministero dell'Ambiente e Regione Siciliana in cui la Regione Siciliana che è responsabile dell'impiantistica regionale è stata diffidata dal Ministero a chiudere tutte le discariche che non effettuavano il trattamento biologico meccanizzato. Quindi è stata chiusa Siciliana che era la discarica presso cui noi conferivamo i rifiuti e siamo stati obbligati da un provvedimento del Presidente della Regione ad andare a conferire a 300 chilometri di distanza circa, cioè a Catania-Lentini. Questo ha comportato chiaramente un incremento di costo nel frattempo si è lavorato a mettere in idoneità la nostra discarica che ormai ha definito il suo ITER e quindi adesso torneremo a conferire a Sciacca ma l'incremento c'è stato. Un incremento che, ripeto, è intervenuto in un momento nel quale di ciò la Regione se ne deve fare carico i Comuni non erano più nelle condizioni di programmare una copertura finanziaria. Grazie.